no la madre russonera fu una scelta sbagliata leonardo fai la direta poi Lorenzo sta attento eh si sta attento a diare no Lorenzo ti vieni a parlare si sta attento a diare si sta attento amore stai attento a diare ah ma fa il cazzo no è più piccosa vuoi fare per me da più cosa ma per questo troppo in una mano mi saluto stella i viutoli non ce l'ha non ce l'ha non ce l'ha non ce la pasticca non c'è la pasticca no amore te la do io no l'ultimo del colpo una canzone che è prima di mangiare fa ahahahah ha risultato di un bambino e mi sono cagato addosso oh manu manu c'era l'aggiornamento te li hai fatto tu si ah ok ok ah che Dio dai cagli tu no no ma che Dio dai cagli tu no attento l'abbiamo letto la mano sulla porta devo fare filetta la dame la femmine uuuuh che skin uuuuh ahahah uuuuh uuuuuh guarda, sai che è indirizzo il quarto? no, è quello che è indirizzo vedete il classico? grazie vedete il mongolino, sono su fortnite poi no, scusiamo, lo bulldog o siete anche in stupenda eh? eh, lo so, mai c'ho 600 sennò me la sarei componata eh, lo so, non si può prendermelo però perché se ci pensi, eh, cioè ce l'ho già la citta poi devo sentire l'obe, è bello? come si fa a usare? oddio, l'umore è bello, però c'ho già la... spezza alberi io vorrei prendermelo, non so, non so vuoi lo so d'acqua d'alberi non so, c'è via, c'è via, c'è via, c'è via, c'è via, c'è via dove? eh, se c'è via cedito devo fare le missioni increased non faccio più no di cosa c'hai preso? eh? quando c'hai preso dei diceri famosi? è ... la... il цub l'ho scritto a fedez il fondotinta ce l'ho scritto da schiaffi prima e ora dai dai forza juve dai si o porco tu quando eri a ria madrid facevi una di quelle rovesciate per il mondo adesso che sei la juve provi provi pronti escono maglia mortecci non ci sto in bagno con il tito bam bam dov'è Non cagare muscolare ciò canto schizzo umani la mia ex ok per quanto per il culo devo che anche lei anche lei c'è stata come va a fanculo ma sputare il fatto che mangi il coglione alzio porco vabbè dai zio porco hai visto i miei pericoli vengo da te vengo da te zio porco non qui hanno aperta non faccio vedere c'è qualcuno per cazzo lago cusci dio porco altro che zio alizio 300 di pino simon marchio che non d'assunti voglio stupendo 87 ma io 23 ma non ciò la pistola grigia bar c'è mancato un po' poi non c'è più la acqua ma c'è sempre qualcosa alzio porco la guadalupe tranquillo c'è un caso perchè il pila che l'armi insieme alle ma non fate le pila le armi insieme alle cose insieme alle munizioni di pila anche le anni a caso a me si passo vicino mi piglia le armi c'è e' nel su oh quel pompalì mi gusta mi gusta porca sta lì tieni ma non mi come sono generoso toh mi piglia le armi porco dinci ii 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 oh un'ugente un po' un uccellino eccolo qui eccolo qui ciao ciao c'era 88 88 la cappola il giardino oppure forse un po' di io se ci sarebbe e simile piazzolo spettano come la città un po' di amore bohkorn alberto no non ha voluto lì colico preso non troppo da rinforzato spettano dove tu mettere un'ultima in un attimo mettere la raccolta armi anno il futuro non so e di raccoltarmi automati che avevo sì di ocani che cazzo sono da da dal telefono che metto sì dio porco comando un po' così pompa che non c'è via facciamo poterci qua e c'è un medico sbauccio dammene un medico un medico fa nome un medico un medico tini medico 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 è sempre medico ok via di più ad un conto dove sei un po' un po' di paio amici un po' e razzi dammi un po' e razzi in generale lanciarazzi ma noi andiamo andiamo consigliamo così la coltana gana matita di matita e porca bucciano un po' e bucciano cazzo quasi quasi posire la cosa ci vuole direi paracadute però no quando c'è un palloncino però con il palloncino cosa per la sua vita c'è un certo una persona vabbè diamo mando una macchina eccoli il sento gialli sento fremere sti bocchi nari giro sempre con ogni fra che mi dicono vedrà l'ho fede 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 dov'è andato fede ma te lo conosci te lo conosci fede rossi king fetish questo palloncino da solo non so perché un uccente qui è gente sul fischio e non c'è palloncini io non posso usciare vabbè vabbè sono un palloncino no dico io c'ho rampino mi aspettare lì da te si c'è un altro marco oddio double headshot lasciami qualcosa double headshot il manuto ho imitato che ho imit vedi ti do la posa a 50 filo al cieco no no me tengo la cappa è us Bendizio i i fabric l'all Yee clef s Hann i i per il bar a 15 ma c'è un punto non ho avuto non mi sta con i quali c 8 favore c'è tal volo c'è un altro qui per faccio il titolo il tato adegu ma non manun per capire sto fa il devasto aspetta a pushare qui c'è una cosa no Iago apri guarda Iago tribola amore e chiama lori ma devi chiamarmi ma fare cosa no 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 mi sono girato di capo ma chi è che c'è la la tribola vabbè ma mo è normale mo li darà noia non ti preoccupare ma no io ho messo un fatto cioè oh ma mi tira non capisco da dove dalla montagna ok e niente niente porco dinci dai con la giara di quadrupla cominciano a spammare ma non si vieni dentro forse mi lianimi sono dentro al ciccio tower nei piani occhio però perché non so se sta arrivando no ok ce la dovresti fare se passi di qua passa dal dal terrazzino sbuca praticamente bravo sono qui sono qui sono qui sono qui copri va 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 di qua non dovrebbero arrivare vai tranquillo ok sono sul fish sono sul fish ok non c'è l'andrea occhio manu occhio manu occhio manu grazie tenendo un po' un medikit anche aspetta aspetta cioè quelli al fish stanno fai dando quelli quelli acquisto quelli sopra qua quindi occhio cioè occhio mo ce ne andiamo manu al centrale hai già fatto per muoverti veloce sono i boncini vai oh eh dai ma sono mongoloide sono diventato parcotillo basta capri no parca madosca non è possibile non è io cane lui c'hai ma non mi mi faccio un attimo mi ammazza dio mercoledio porca madosca un secondo il tempo di switchare l'arma mi ha devastato cioè devastato da 150 non via non via non via non via oh merda eh te fai così e io lasciami i palloncini al limite no il coso scusa lasciami i dentaplano almeno così cioè così almeno ti raggiungo anche io tanto tempo di vantaggio l'hai preso lasciami i palloncini così non me ne fa lasciare uno no no vai devi lasciare tutti vabbè rifatti rifatti una scala no però ma non li devi lasciare se no ci muoio io c'ho poca vita a me non me lo dà capito eh ma lo so ma tanto dice il medikit non lo capito lo so ma io ero morto se no tanto guarda dove cazzo arrivo capirai porco cazzo quanti mai di kit c'hai te due due dai vabbè ma te ce la fai al limite lui ne usa un altro eh il capito è proprio che devono fare eh ma tanto lo faranno dopo perché anche i palloncini all'inizio facciamo così ma poi lo faranno che li puoi lasciare eh affanculo l'ho presa non sto andando ad altro passo vabbè vabbè ma tanto non c'è morire non ci muori ma morire non muore ti ce lo vado davanti la sua capito eh ma me però me l'ho visto eh ma me l'ho visto si c'è oddio non l'hanno preso eh è sopra la casa blu è sceso è sceso arrivano altri con i palloncini eh oh ma mamma sulla visuale da solo vittato bravissimo non mi un po' a me di cozzo eh non ce l'ho 3590 aspetta 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 vado a prendere i lotti di questo qui dentro eh vancazzo neanche lui non c'è niente di materiale ma non sono andato dentro da 93 andare a 102 di pietra non può mai di kit c'è gente no no mi sembra ho sentito dei passi non mi sa che di te cioè spero non c'è non c'è niente manu c'è affarmato eh vabbè per fortuna è silenziato razzi manu quante chi l'hai? eh tutti assisto fai più caio dove me l'hai lasciato ok vai presi presi ok vai andiamo manu eh abbiamo fatto con quello che ci abbiamo forse la carta tieni ti lascio qualcosa ti ho da cento di legno di più non posso darti perchè non c'è neanche io no io non so dentro dentro casa qui qui ho stato più l'uscitino dopo cura non è 32 62 morto eh niente ovviamente mi ha preso con razzo no? va benissimo no mamu li scedini ce l'ho anch'io vedo tranquillo materiali si c'è il legno lì che avanza ok c'è il legno lì che avanza ok io ho preso no brutto il figlio di l'uscitino mi ha fatto andato via andato via eh meno male se no eravamo morti te lo dico mamma ti pare che mi ha dovuto pigliare con lanciarazzi dopo che è morto occhio manu dov'è? 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 solo c'è e vabbè è power adesso volta ho messo le trappole occhio no ma non ho no ma non ho no ma non ho me e le mie stupide cazzate con lanciarazzi mi sta bene 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 ho detto voi mi faccio per farci tutto questo eh ho preso eh oh perchè saltando così ed era difficile centrare il coso era normale ma non ho in casa però no nel senso era normale prendere il coso tu c'hai il legno lì ehm vabbè senso dirlo allora te c'hai il coso no le bello non ce l'ho te c'hai il... c'hai lanciarazzi normale l'ho lasciata eh la pilata il quattro colpi lì tanto che se ti pigli la dox o fa poco vabbè allora non lo prende lo tengo io tranquillo sono due tanzi di vita pronto si ma non abbiamo un cazzo di vita non so se si ma che cazzo vabbè io ho una matriata se non so dio vabbè però una bella partita eh non possiamo dire niente sto giro c'è il senso magari ok no 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 ma non che fai senti il materiale tanto non ci serve c'è il corno iesz che non c'erano non c'erano la sua mamma non c'erano di diretti ah no no c'erano cioè no allora è fatto questo è tutto sono stati cittadini all'anno del mondo di tanto che è il senso del diritto d infatti sui luoghi spon il film giugno un'intervento non è intima dove 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 cerco le scelte amoste se li ma dove sono in un deserto ok sotto il sito per il mondo per il mondo non c'è lì cosa fai ah ma qui ci fa più noccato uno no ma perché ce n'erano altri lontano pensavo sparare a quelli come se n'è certo ma tranquillo testa coperta un'ultima volta tempo m'ammasso l'anno poco quanti 3 oddio manu portali ti prego portali occhi euro copri di c'è gente morte un altro questo è da canale questo è da canale vai flavie mandala vai flavie mandala tieni vai flavie mandala famo un blind si famo un blind amore a me ci si chiede io ma non mi sono dato il merito sono un bastardo no problemi familiari mi hanno scegli da mano non lo so aspetta un attimo ma non la calcata dove appuntando ma dove dimmi dove guarda che esco da sto fortino di merito ma dove sotto a meccolo la vittoria fatta un attimo eh power città 105 manu l'attacco ha fatto 100 850 e poi con il coso cose il poveri di uca il 1.700 di pdp cosa non andare al buldoguer che mi fa si scorso si scorso ma vaffanculo buldoghino pigliate la cosa grande dico tutto quant'è fatto la sua parte 4 tra cui un ultimo l'ho misato e io te lo puscio e poi l'hai fatto che non c'è Iago Iago amore da noia Iagino ti da noia ti da amore lo so che ti da noia ma 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 un po' più largo mamma ma il calcio un po' più largo ho sblocato il trogo ho sblocato il trogo figlio che a quanto gli hai dato stretto lo conosciremo trogo ho sblocato trogo